Purtroppo Loredana Bertè non sta bene e le notizie che giungono dall'ospedale non sono rassicuranti. Vi diamo il benvenuto nel cuore pulsante di Top News 24. Prima di svelare gli eventi di oggi, desideriamo chiedere il vostro prezioso sostegno. Un gesto semplice, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza straordinaria. Vi ringraziamo di cuore. Loredana Bertè, una delle voci più iconiche e ribelli della musica italiana, continua a lasciare un segno indelebile con brani come sei bellissima e non sono una signora. Tuttavia, una notizia preoccupante ha scosso i suoi fan. La cantante ha dovuto cancellare alcune date del suo tour, tra cui Capri, Brescia, Torino e Roma, per sottoporsi a controlli medici. Durante un recente concerto a Mantova, Loredana aveva accusato forti dolori addominali, aggravati dal caldo e dall'umidità, e sebbene fosse riuscita a portare a termine lo spettacolo, aveva dovuto farlo sedendosi più volte. Dopo l'esibizione, è stata ricoverata in ospedale per ricevere le cure necessarie. I medici le hanno prescritto un periodo di riposo e cure più approfondite per favorire una completa ripresa. Le auguriamo tutti una pronta guarigione. E tu cosa ne pensi di questa vicenda? Scrivilo nei commenti. E non dimenticare di iscriverti al canale ed attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato.